Sono appassionata di canto da sempre, ho conosciuto Carlos diversi anni fa e a un certo punto è scattata questa cosa di fare delle lezioni con lui, prima online in gruppo e poi mi è venuto voglia di lezioni individuali ed è stata una cosa veramente molto importante per la mia crescita non solo per il canto ma proprio anche per la mia voce perché lui oltre ad essere un insegnante quindi che mi ha insegnato tante tecniche per lavorare sulla voce sul fiato eccetera mi ha avvicinato a questa cosa straordinaria di capire che la voce con cui io cantavo e che parlavo non era la mia vera voce e mi ha accompagnato in questo percorso di ricerca e di trovare con molta pazienza molta perseveranza e anche moltissima fantasia nell'inventare esercizi utili e comprensibili per me quindi grazie Carlos Yeah yeah, you'll sing your way